ciao a tutti stelline ben atterrati sul canale allora questo è un video di risposta a una stellina che mi segue sempre che è monica marini ciao monica mi hai chiesto questo video su questa profumazione particolarissima che io tra l'altro adoro mi avevo già parlato in un altro video ma come ti ho già scritto anche nel commento non riesco a ricordarmi nemmeno io in quale video l'avessi nominato e quindi ma vale la pena di rifare un video per questo profumo penso che piacerà e quindi ho deciso ovviamente di farlo poi volevo accontentarti perché quando mi richiedete un video io ve lo faccio di solito mi fa veramente molto molto piacere allora come avete visto mi sono fermata un paio di giorni perché con questo caldo non ce la facevo sinceramente e poi avevo un po di cosina da fare per cui ho dovuto prendermi un paio di giorni però si procede allora veniamo subito al dunque intanto tu mi dici una cosa no monica che probabilmente questo profumo potrebbe essere il dupe o comunque ricordare il mitico poesò scusate il mitico poema di lancome e qua mi vai a toccare un tasto molto dolente molto dolente perché tu stai parlando di niente po po di meno che questo questo poem di lancome ragazzi guardate cosa ancora qua sapete questo profumo che non oso spruzzarmi per me è una riliglia da quando seppi che non l'avrebbero più fatto che sarebbe diventato un profumo discontinuato purtroppo cose incomprensibili io non l'ho più spruzzato avevo questo e lo so che è una cavolata perché probabilmente andrà male così però ragazze forse in qualche occasione ultra speciale lo potrò ancora mettere ma a me piace sapere che me lo posso risentire così questo è uno dei profumi che ho amato di più in assoluto ovviamente faremo il paragone anche faremo il paragone sappiate che comunque questo profumo chi lo va a cercare su internet chiaramente a dei prezzi magari inavvicinabili lo può ancora trovare sappiate che io l'avevo trovato ancora a roma quindi parliamo di sette anni fa più o meno un periodo da cui manco da roma in una vecchia profumeria che ancora ne aveva qualche pezzo io ne presi due pezzi questo un altro l'altro me lo consumai e questo non ho più avuto il coraggio perché ho detto se poi non lo trovo più voglio almeno potermelo ogni tanto risentire come ho fatto con sicili che ne ho proprio tanto così di questo ne ho quasi mezza boccetta dell'altro di sicili no però riesco a sentirmi quel profumo e naturalmente cosa succede che faccio i paragoni con tutti i dupe che mi capitano a tiro paragoni sempre disastrosi ultimamente di sicili ho trovato anche un dupe sui profumi the one l'ho già ordinato quello è un altro video che vi devo fare ve lo faccio a breve e poi ho preso i dupe di alcuni profumi di ricchia e quindi vi dirò qualcosa e vi farò questo video nei prossimi ci sarà allora intanto partiamo un attimo a vedere la differenza tra loro due e poi si va a recensire questo naturalmente di Nazaremo no Gabrielli è il classico andiamo comunque ad aprirlo prima di cominciare questo è quello di cui io penso di aver parlato in un video ma sicuramente ho parlato solo di questo è il deodorante e questo è l'eau de toilette cioè il profumino che è qua 100 ml ora vi faccio anche vedere il prezzo eccolo qua boccetta carina insomma niente di eccezionale ma quello che è eccezionale è il profumo allora il prezzo è qua ve lo faccio anche vedere 17 e 11 dunque partiamo prima a dire le note così avete un'idea di che cosa parliamo poi facciamo il paragone e valutiamo ok allora intanto e poi vi dico scusate vi dico ancora che di Nazaremo Gabrielli in realtà ci sarebbe ci sarebbero anche altre due profumazioni che non conosco che ho visto vorrei veramente mi incuriosiscono tantissimo ragazze e vorrei provarli uno è Nazareno proprio di Nazareno Gabrielli e l'altro che mi incuriosisce ancora di più ragazze è questo qua che ora lo sto guardando eccolo qua in nota bad girl io non sono una cattiva ragazza intrigante da matti l'ho visto qua qui praticamente su fragrantica vi dico le note di questo qua e poi parliamo di questi però per solo per farvi capire che note ha pazzesche parte con mandorla e caffè nel cuore il gelsomino il samba che la tuberosa e poi sotto in in sul 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 fondo ha fava tonca e cacao secondo me deve essere un gourmandone tremendo e secondo me sarà buonissimo mandorla e caffè in testa mi incuriosiscono veramente tanto e questo qua appunto di Nazareno Gabrielli è in nota bad girl se qualcuno di voi lo conosce ragazze ditemi nei commenti com'è sto profumo comunque me lo andrò a sentire perché è pazzesco e stessa cosa vorrei fare per Nazareno di Nazareno Gabrielli che è questo qua che ho trovato su fragrantica che è un talcato con violetta in testa un agrumato e in fondo rosa iris deve essere molto particolare anche questo mi incuriosisce non poco ma veniamo a lui il classico che per me è veramente io lo compro sempre ragazze questo lo trovate non è come Poem che è un discontinuato purtroppo e andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di questo splendore che avete visto a un prezzo quindi è un low cost un profumino che potete comprare tutti 17 euro non sono nulla poi magari con certe offerte può anche essere a meno chissà allora le caratteristiche di questo profumo intanto è famiglia olfattiva floreale molto adatto per il periodo io lo vedo bene sia per la primavera e sia per l'estate in inverno un po' meno sono sincera però io a volte lo metto anche in inverno qualche volta mi piace talmente tanto che mi è piaciuto metterlo diciamo forse più che nel pieno inverno dove voglio sentire cose più corpose può essere più forse l'autunno però il pieno inverno vabbè con tanti profumi che ho ammetto altro sono sincera ma primavera ed estate questo qua allora come vi dicevo famiglia olfattiva floreale la composizione del profumo è molto particolare è bello complesso ragazze troviamo in testa il bergamotto il ciclaimino la gardenia il fiore d'arancio troviamo l'ilanghi lang troviamo la rosa bulgara la tuberosa il garofano a tutte le note che a me piace non vedete che poi non è mai un caso quando un profumo ci piace molto c'è il garofano il cedro il vetiveri il benzoino il muschio la vaniglia è estremamente complesso ha una bella piramide olfattiva distinguendoli bene in testa abbiamo bergamotto ciclamino e gardenia nel cuore appunto il fiore d'arancio l'ilanghi lang la rosa la tuberosa e il garofano e invece alla fine troviamo sul fondo troviamo il cedro il vetiveri il benzoino il muschio e la vaniglia la persistenza ragazze è bella tosta direi non altissima altissima ma nemmeno media alta persistenza alta questo lo sentite un bel po' sui vestiti tantissimo sulla pelle comunque anche ottima persistenza non è un alien non è uno di quelli proprio quelle bombe che lo sentite due settimane di fila ma lo sentite bene io quando lo metto sui vestiti il giorno dopo si sente ancora tranquilli anche il giorno dopo un paio di giorni lo sentite poi ancora sulla pelle proprio tutto il giorno è tranquilli se ve lo mettete andate dal mattino alla sera e ce l'avete quindi voi sapete che io amo abbastanza i profumi persistenti e quindi questa cosa la sondissa in pieno cosa vi posso dire è fascino allo stato puro ragazzi ma andiamo a spruzzare intanto questo questo profumo è elegante raffinato diciamo che anche per una bellissima serata romantica è ottimo me ne metto solo un po' qua perché poi l'altro me lo metto dall'altra parte che meraviglia che meraviglia che è mamma mia è troppo troppo buono allora ma monica che ti posso dire dunque tu mi parli della somiglianza con questo vediamo le note olfattive di questo hai già capito dal mio tono che non concordo però allora non è che non concordo totalmente ecco monica quindi non voglio disilluderti e diciamo che siamo su quel genere lo può ricordare non è che andiamo totalmente fuori dai giri con questo con questo profumo a dire questa cosa se si vuole avere un barlume di ricordo di questo ora me lo sento ecco diciamo che forse le note di cuore allora e tra l'altro nelle note adesso lo vediamo ci sono delle somiglianze ci sono per carità però questo qua è una cosa è una poesia come dice il titolo poem beh questo l'ho recensito è questo ho fatto una recensione l'ho messo in un mio vecchio video dove parlavo forse dei profumi più eh come si intitolava ragazzi no comunque tra i miei vecchi video questo lo trovate eh dove parlavo dei miei profumi di sempre stra preferiti parlavo di questo di sicili proprio ne ho parlato di questo magari poi vi vi metto in infobox il titolo esatto ma questo qui lo trovate recensito però allora le note le note le note di poem di poem di lanconi allora in testa noi troviamo il narciso la datura la pesca la prugna sentite che piramide olfattiva che ha il papavero imalaiano il mandarino il ribesnero il bergamotto note verdi nel cuore addirittura troviamo la mimosa che è una roba che io amo e strano e si sente bene una mimosa pura buona non mischiata ad altro sentite il profumo della mimosa chi lo ama lo sentite proprio bene il fiore di vaniglia la tuberosa li langhi lang ed ecco che qua ecco vedete già che nel cuore ce lo ritroviamo come anche in nazareno gabrielli il fiore d'arancio anche la il gelsomino la fresia l'eliotropio la rosa il cuoio il cuoio i profumi cuoiati a me piacciono in un modo esagerato le note di base poi sono quelle che lo rendono questo ha una durata poema una durata esorbitante e non è mai attenzione non era insomma per chi ancora lo trova mai che vi stanca vi dà in testa o vi dà fastidio è assolutamente questo qua è è una meraviglia non so come definire questo profumo quindi dicevo alla base troviamo la vaniglia il fiore d'arancio e poi l'ambra e la fava tonka che lo rendono praticamente tostissimo danno una base estremamente solida ma avete sentito che piramide olfattiva aveva questo profumo io non so perché l'ancom che ha sempre fatto dei veri e propri capolavori a me piace moltissimo come maison ha tolto dal dal commercio questo profumo così come non ho mai capito dolce gabbana che cavolata ha fatto a togliere sicili diciamo che comunque ne stanno parlando di ritirarlo fuori proprio quello classico perché poi hanno fatto altre versioni che però non hanno niente a che vedere con il classico sicili sicili si direbbe vabbè comunque che avevano lanciato molti anni fa e che hanno purtroppo eh tolto dal commercio eh le note similari avete visto che tra questo tra poem e ehm e Nazareno Gabrielli quelle comune ci sono per carità ce ne sono eh abbastanza però ragazze eh le differenze cioè sono alcune le note hai visto Monica che non ce ne sono tantissime ce ne sono abbastanza nel cuore troviamo delle delle note quindi diciamo che lo richiama lo richiama ecco io non però non oso dire di più eh la durata è leggermente superiore quella di poem ma non di tanto e poem è veramente tanto persistente quindi anche questo qui è una vera bomba cosa posso dire se devo fare un paragone visto che mi piacciono tutte e due però ovviamente poem è un'altra storia posso dire che Nazareno Gabrielli è leggermente più fresco ehm è leggermente meno gourmand ehm e ehm allora questo qua è e e più adatto per essere dei grandi romanticoni e per fare proprio quelle serate da conquistadores perché la donna che mette questo in una serata romantica è veramente il top è il top della dolcezza della femminilità dell'eleganza qui eh non è mai una donna eh aggressiva non è mai una virago non è mai una donna dai caratteri molto impositivi ehm tra l'altro è un profumo questo qua che non è proprio dei miei non è come dirvi uno dei profumi che normalmente io uso per il mio carattere visto che non sono proprio così romanticona sì mi piacciono le cose romantiche ma insomma io sono anche un po' più un po' più iperlogica come carattere un po' ecco non sono così un'istintiva se devo definirmi e quindi un profumo romanticone e sdolcinato come questo ma non sdolcinato perché è dolcissimo sdolcinato perché è un profumo che potrebbe essere ottocentesco per la sua per la sua eleganza poesia potrebbe essere il profumo di paolo e francesca di leopardi ecco per farvi capire quindi è un profumo d'altri tempi meraviglioso questo invece è molto più moderno molto più fresco molto più sbarazzino appunto molto più floreale anche se ovviamente lo è anche l'altro tutte e due però sono femminili ed eleganti diciamo che questo qua è leggermente meno impegnativo è molto più adatto all'estate mentre questo potrebbe essere perfetto anche in inverno questo qua io in inverno lo vedo molto meno ecco molto meno molto meno di poem però diciamo che sono due capolavori questo per fortuna me lo posso spruzzare a iosa mentre questo devo devo tenermelo lì e ogni tanto una sniffata ragazzi quindi il discorso è questo qua questi sono due capolavori che io stra amo le note che vi ho detto si sentono tutte molto bene sia in questo sia in questo quindi due piramidi olfattive fatte ad arte e quindi mi sbilancio assolutamente a dire che questo è uno dei profumi low cost stra favoriti vedete che ho preso anche questo perché questo qua è leggermente più leggero deodorante ma comunque va benissimo e si sente bene assolutamente e poi questo che ancora un po più tosto ma di poco ragazzi perché questo qua è buonissimo in tutte e due ovviamente questo un prezzo inferiore ora non mi ricordo esattamente forse 12 non mi ricordo bene questo qua ve l'ho detto 17 poi ma aveva un'altra cifra era un profumo molto più costoso giustamente di lancome ora chi lo riesce a trovare in internet ovviamente sarà come sicili e tutti gli altri profumi discontinuati che non si trovano più e che quindi gli amatori che vogliono venderli se io volessi vendere questa sicuramente se la metto a 3 400 euro pure essendo metà boccetta trovo chi lo compra solo che io non lo vendo ragazzi non lo venderò mai e oltretutto ovviamente profumi originali e quant'altro per cui ragazze il discorso su questi due profumi è questo il video finisce qui ragazze se volete farmi sapere che cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti un bacio a monica che mi ha chiesto questo video e un bacio a tutti voi ci vediamo alla prossima un bacio ciao ciao